È stata un'attività sul pane, è stata molto interessante, non è un argomento molto trattato qui in questa scuola quindi è stato interessante capire gli accorgimenti che lo chef ci ha dato. È un argomento molto particolare, anche se con gli ingredienti è molto semplice, però ci vuole tanta attenzione e quindi sono stato contento che lo chef è venuto a fare questa giornata insieme a noi.